Per me te le presento mio marito Giubileo risaliti, rappresentanti articoli sportivi in plastica e gomma, calcetti, fischietti, maglie di società, auto per il calcio bottiglie vuote sterilizzate da gettare in testa e lacradi in campo Forti sconti parenti pubblici e società sportive, precapito fisso chiosco degli sportivi, via degli Ansegni, Firenze Giubileo! Spiega la mamma da voi Piacere signor risaliti, Sofia Tramonti Signora Tramonti, signora Tramonti Caro! Signora Tramonti Giubileo! Dicevo signora Tramonti Eh, non l'ha chiamato? No, mi si spazia Ma che sistema di salvezza? Quindi io, non l'è anche sorda e lo so Posso farlo Ci sei Giubileo! Mi hai le servito? Oh mia! Oh, questa è che lei Fammi che lei Ok, c'è la signora, la carrozzina porta a te. Questa è la carrozzina della Sandra, devo andare alla piccina, ma io che dovevo fare? Il carriello ve l'ho trovato. Carrello, si dice carrello, non carriello. Ecco, il carriello ve l'ho trovato e allora ho preso la carrozzina. No, ne scorsi. Ma la guardi signora, la guardi o me c'entra bene in mia osa? Non manca mia niente, c'è tutto, anche i tuoi bagliolini. Se la levò la dottorare, sono pulite, guarda, la dottorare, guarda, basta! A me, a me, che si mette una tazza per uno, che si fa? E tu, ragazzi vado, me ne fate a me, poi si vede. Con questo è che l'è? Come il che? Vino e del lavoro. Anche a occhio? E bene, Dio, ma di che sento il vino con te? E ringardo, ma che ti succede oggi? Non te l'hai mai comportata così? Per forza, se m'ha preso il tempo in questa tazza. Sì, mi ha piaciuto. Arpereo sclero si sa, l'energine cronica. Che famiglia? Il vino, e l'ho preso per il signor Giubileo. Ma chi te l'ha chiesto il vino? E che l'ha chiesto? A quest'ora la va sempre a farsi durassi. E come si fa a palazzo? Siccome oggi non può andare dal vinaio, allora l'ha chiesto. Ma dove in cucina? Signora Sofia, ve la comune? Signora, sa comune? Non mi ha pazienza, mi scusi, sa? Non mi ha pazienza? Non mi ha chiesto, ma si sa come oggi la servisci. Ma la signora Sofia è molto offrensiva. E devo dire anche di morto balla la signora Maria. Oh no, grazie del complimento. Eh, robella. Oh no, lo lasci stare, signora. Lasci stare sopra ancora. Scusi, signora Sofia, come la lo prende? Ecco, signora Sofia, lascerò via. Come la lo prende, lei. Dipende. Ecco, dipende. Dicevo, limone o latte? Sì, una pettina di limone. Grazie. Eh, ma chi c'è nel limone o nel latte? Sì, sai? E che ne vorrei? Ermengarda! Limone! Io questa donna la mi fa impazzire. Bevi, amatele, anche sorda le tene. No, è un sorda. Guardate, guardate. Ecco il latte. Guardate, guardate. Ecco il latte. Che ne ha? Limone, Ermengarda. Io ti ho chiesto il limone, non il latte. Perché la signora Sofia il tè la lo gradisce col limone. Spianciami. Ma a parte che il limone o c'è. Eh, che cosa sa bene. La diaretta a me, signora, la lo prenda col latte il tè. Sennò gli sembra i veri piccioni al latte. Ermengarda! Che cosa sa? Sennò gli sembra i veri piccioni al latte.